Il caffè è un'abitudine quotidiana per milioni di persone e rappresenta un giro di affari mondiale secondo solo al petrolio. Ogni anno si producono 6 miliardi e mezzo di chilogrammi di caffè e si consumano 900 miliardi di tazzine. L'Italia è la patria dell'espresso, importa quasi 6 milioni di sacchi l'anno ed esporta da sola un terzo del caffè torrefatto mondiale. In un anno una famiglia italiana consuma 40 chili di caffè, in media 600 caffè a persona. In Italia si consumano 35 miliardi di tazzine di caffè l'anno, il 70% si beve in famiglia, il 30% fuori casa. In un mercato legato al tradizionale uso della moca si va affermando una nuova tendenza, il caffè porzionato. Un segmento del mercato che genera un fatturato anno da 226 milioni di euro, con un trend di crescita di oltre il 20% anno. Perché questo successo? La capsula contiene la dose di caffè ideale per un espresso perfetto. La sua particolare confezione mantiene intatti gli aromi fino all'uso. Con pochi semplici gesti, chiunque può ottenere un ottimo espresso, al pari del miglior bar. Ma non tutti i caffè sono uguali. Dovremo scegliere la moda o la sostanza, la qualità o l'appeal di un testimonian, un prodotto estero o il made in Italy. È il momento di scegliere solo il meglio. È il momento di unire la sapienza tradizionale ad un cuore moderno. È il momento di momento espresso. E da qui, da oggi, da ora, è il momento di partire.